Presentazione stamattina all'Istituto Floriani di Riva dei casi di studio realizzati in questo anno scolastico dagli studenti. Si tratta della realizzazione di veri e propri progetti di ambito territoriale sviluppati in base alle materie di studio, relazioni internazionali per il marketing, amministrazione finanziaria, costruzioni ambiente e tecnologia del legno, elettronica e automazione. Prima tappa oggi dei casi di studio, sono dei laboratori che fanno i ragazzi a scuola, ci vuole spiegare di cosa si tratta? Sì, allora i casi di studio sono stati voluti fortemente da professor Don Gilli che è stato docente a lungo in questa scuola, sono una modalità alternativa alla didattica d'aula e sono stati messi in campo da questo istituto prima che l'alternanza scuola-lavoro diventasse un vincolo, insomma una modalità obbligatoria. Le classi, tutte le classi del triennio, compatibilmente con il loro indirizzo e con le competenze che di anno in anno mettono in campo, preparano questi lavori all'interno dello svolgimento del curriculum, assumono delle commesse reali, proprio compiti di realtà, da agenzie, enti, il mondo politico, le realtà del territorio che stanno intorno e poi si cimentano nella realizzazione di un prodotto possibilmente più possibile finito appunto come risposta a questa commessa che viene data. Quindi sono dei veri e propri compiti di realtà. Per due settimane l'anno le classi proprio interrompono la regolare attività didattica e si concentrano proprio sulla produzione di questi compiti, insomma di questi oggetti che sono stati loro richiesti, che siano progetti come nel caso del CAT, che siano oggetti proprio automatici oppure costruzioni, assemblaggi di robot come succede nell'automazione, che siano studi economici e di marketing per la sezione per l'indirizzo economico. Per questi studi, per questi laboratori è importante anche la collaborazione col territorio, con le amministrazioni comunali. Certo, è fondamentale perché le commesse devono essere reali e devono venire proprio dall'esterno e dal territorio. Questa è una ragione. L'altra ragione è riferita al fatto che è giusto ed è vitale che il territorio si renda conto di quello che questa scuola, che la scuola fa e entri in sinergia con gli studenti. Se vogliamo formarli per le professioni del futuro e vogliamo formarli al futuro, dobbiamo metterli, inserirli nella realtà e nel territorio che abitano anche attraverso l'interesse di chi il territorio lo governa, insomma.